E' deceduta l'anziana che ieri è in corsa in un incidente stradale all'alba mentre transitava a bordo della motoape Piaggio guidata dal marito sulla Galatina Galatone. Immacolata Miciali, 78enne di Galatone, era stata trasportata all'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, dove le sue condizioni si sono aggravate, sicché è stato necessario trasportarla al Vito Fazzi a Lecce, dove era stato ricoverato il marito Luigi Filoni nel reparto di neurochirurgia. La prognosi per l'81enne è riservata. Secondo i vigili urbani di Galatina, la Pecar sarebbe stata urtata da una Fiat Punto guidata da una giovane, contatto che avrebbe causato l'uscita di strada del veicolo dei due anziani.